Perché i giovani sono così attratti dall'alcol e dalle droghe, credo? Eh boh, chiediamoli ai giovani, perché non ci hanno un cazzo di meglio da fare, è quello il problema. Perché i giovani sono così attratti dall'alcol, ma ne manco tanto solo i giovani, anche credo sia dall'alcol e dalle droghe, perché... Il grosso problema della gente, giovani e non giovani, per cui poi si buttano negli eccessi o nel fumo, nelle droghe o nell'alcol, e che non hanno veramente un cazzo di meglio da fare, ma questo è il problema di tutti. Se uno avesse qualcosa di interessante da fare nella vita, qualcosa di piacevole da fare nella vita, farebbe quello. Non starebbe né a pensare agli altri, né a rompere i coglioni agli altri, né a parlare a sproposito agli altri, ma si focalizzerebbe su quello che sta facendo, su quello che vuole fare, su quello che è la propria missione, su quello che è la propria passione. Purtroppo il vero grosso problema dell'umanità è la mancanza di una strada, di una missione, di qualcosa di stimolante. Ma di qualcosa di stimolante e appassionante, non di qualcosa di stimolante solo perché deve soddisfare un mio bisogno. Cioè, ecco, parliamo un attimo di questo, perché vorrei farvi comprendere questa cosa qui. La differenza tra una cosa piacevole e una cosa di cui sei innamorato. Perché oggi si parla tanto di questo virus. Probabilmente, non lo potremo mai sapere, probabilmente se si andassero, o se si fosse andato a vedere la storia personale di tutti i morti, a parte, vabbè, quelli con 10.000 patologie, vabbè, ma anche lì è la stessa cosa, probabilmente avremmo scoperto che nessuna di quelle persone era realmente innamorata. Attenzione, dove per innamoramento non intendo innamoramento di una persona. L'innamoramento è un'emozione, è uno scarico ai neurotrasmettitori, ma è un cocktail di chimica interiore che è probabilmente la nostra migliore medicina, cioè è veramente la pozione di Asterix. Infatti, sembra che non esistano persone malate e innamorate. Non a caso tutti sappiamo che, meglio, spero che tutti sappiamo, che quando si vive un momento di innamoramento, il nostro corpo reagisce, le nostre funzioni sono completamente diverse. Dormiamo meno, mangiamo meno, siamo sempre carichi. Quell'effetto di farfalle nello stomaco, non di gastriti da problemi, proprio di farfalle nello stomaco, quelle che sentite farfalle svolazzare, che non vedete l'ora di svegliarvi e vi rode perché dovete andare a dormire. Perché volete più tempo, nel caso in cui si parla di innamoramento di una persona, volete sentire la persona, starci assieme, godervela. Se si parla di innamoramento di un progetto, è la stessa cosa, volete starci a lavorare, volete continuare a farlo, volete dedicarci tempo. Quindi vale per qualunque cosa. Il segreto, probabilmente, della longevità è proprio questo, quello che i giapponesi chiamano ikigai, ovvero il proprio scopo, no? Che può essere anche banale, ma se sai che è il tuo scopo e lo fai con amore, o meglio con innamoramento, perché amore e innamoramento sono due cose completamente diverse. Se lo fai con innamoramento, non ti ammali. Un imprenditore che porta avanti un progetto che ama, non si ammala. Cazzo, andate a vedere le statistiche. Un imprenditore, gli imprenditori si ammalano molto meno dei dipendenti, chissà come mai. Allora dovremmo dire che fare impresa rende più sani? No! Fare impresa rende più appassionati. Ovviamente se fai impresa di un certo tipo, cioè se fai, se stai portando avanti la tua passione, se poi hai fatto una fregatura, o fai fregatura, o fai esole, come qualcuno che vede soltanto quello nei nostri chat, magari poi te becchi pure il karma e vedi. Però l'innamoramento è alla base della salute. Quindi probabilmente tutti i morti che abbiamo avuto, che si hanno normalmente, difficilmente saranno persone realmente innamorate. Perché durante la fase di innamoramento il nostro sistema immunitario è a palla. Cioè, davvero, non ha bisogno di niente. Ma è anche difficile. Perché l'innamoramento, spesso e volentieri, è una delle emozioni più transitorie che abbiamo. Anche, come dicevo prima, io auguro a tutti di aver vissuto la sensazione di innamoramento, ma se l'avete vissuta sapete che è temporanea. E spesso è molto temporanea. O temporanea è poco. Poi viene un adattamento, un ce lo facciamo star bene, un'abitudine, eccetera. Quindi, e quindi appunto dicevo, l'innamoramento è una situazione temporanea. Il segreto delle relazioni dovrebbe essere riuscire a stare, o meglio, a reinnamorarsi della persona ogni mattina che ti risvegli. Che non è facile. Non è facile soprattutto perché alla base delle relazioni, come ho detto un miliardo e mezzo di volte, ormai ci sono soddisfazioni e bisogni. Quindi, piacere e innamoramento sono cose diverse. Perché il piacere è l'opposto del dolore. Quindi viene da un trauma e quindi per evitare il dolore mi avvicino al piacere. Vi faccio un esempio abbastanza pratico. Se io ho fame e non mangio da 20 giorni, appena trovo un tozzo di pane, proverò un piacere enorme nel mangiare quel tozzo di pane. Ma non sono innamorato di quel pezzo di pane. Provo semplicemente piacere perché mi sto allontanando dal dolore è mancanza di cibo. Piacere e innamoramento sono due cose totalmente diverse. Questo è un concetto fondamentale che grazie che me l'avete fatto arrivare durante questo flow, perché deve essere chiaro. La maggior parte delle persone si muove, ricordiamoci, per l'allontanamento dal dolore e avvicinamento al piacere e vivono in questo loop perché hanno ancora mostri e demoni che gli generano dolore. Quindi devono compensare col piacere. Di fronte a me ho il disegno che la nostra artista ha fatto della bilancia di cui vi ho parlato l'altra volta che è poi la classica bilancia dolore e piacere. Per cui quella che noi normalmente tendiamo a bilanciare ogni giorno. Se qualcuno ci dice cosa fai nella vita potremmo rispondere bilancio la mia bilancia piacere e dolore. Cerco di bilanciare la mia bilancia piacere e dolore. E quello è quello che facciamo. Però ci sono due modi per fare questo. Ci sono sulla nostra bilancia piacere e dolore se nel nostro dolore ci abbiamo una tonnellata di peso perché abbiamo tanto dolore che ancora ci attanaglia e ci pesa su quella bilancia dovremmo dare una tonnellata di piacere per poterla bilanciare. Cazzo fare una tonnellata di piacere non è facile. Cioè ti devi sfondare di Nutella per poterla avere. Perché il piacere non è facile da ottenere. E il piacere più a basso costo e più veloce è purtroppo il cibo. Perché sì potrebbero essere le cose che ti piace fare ma non hai tempo perché devi lavorare perché devi far soldi perché devi pagare bollette adesso che avete tempo per farlo lo state facendo state facendo quello che vi piaceva dicevate prima che volevate leggere volevate studiare volevate fare volevate dire adesso che non c'è un cazzo da fare lo fate o state appiccicati a Instagram? Oppure dicevamo quindi se hai una tonnellata di merda puoi metterci una tonnellata di Nutella che è il caso vero oppure puoi facilitarti la vita diminuendo i chili del dolore quindi andandoti a risolvere i traumi ne abbiamo parlato del salto quantico da una vita andate a vedere il salto quantico aiuta anche questo e in 167 flow cerchiamo di fare questo vi do spunti per potervi liberare dai dolori gli ipno flow che spero voi tutti abbiate visto e prima o poi li rifaremo fanno parte di questo perché vi vi danno la possibilità di risolvere delle vi danno la possibilità di risolvere dei problemi interiori quindi di sganciare di mollare una parte di quel peso ora è abbastanza palese il concetto se io ho sulla mia bilancia 50 grammi di dolore è facile mettere 50 grammi di piacere è veramente facile se ho 50 chili di dolore metti 50 chili di piacere è un po' più difficile devo fatica di più se ce n'ho 500 chili ancora peggio quindi capiamo bene che noi possiamo fare qualcosa oltre la nostra bilancia solo quando quella è equilibrata quindi se piacere di dolore si equilibrata posso pensare ad altro posso pensare alle passioni posso pensare a innamorare posso pensare a fare progetti posso pensare a fare quello che voglio ma finché quella bilancia non è equilibrata la nostra mente avrà quella come priorità ed è quello che nella maggior parte dei casi accade quindi non andiamo a parlare di innamoramento finché la nostra bilancia non è equilibrata perché se no probabilmente quell'innamoramento non è altro l'idealizzazione di una persona che ha un peso sulla bilancia piacere per cui se una persona improvvisamente ci dà più piacere della nutella del che ne so delle pringles e della coca cola messi assieme ci innamoriamo perché quella persona ci dà tanto piacere ma in realtà è un semplicemente un uno spostamento una traslazione tra una fonte di piacere e un'altra fonte di piacere diverso invece l'innamoramento va ben oltre sì ovvio che dà piacere l'innamoramento ma è anche vero che è mosso da una base diversa o meglio dovrebbe essere mosso da una base diversa oppure sarà molto temporaneo sarà veramente molto temporaneo perché potreste innamorarvi del vostro pusher di piacere ma ricordiamoci che qualunque cosa che dà piacere dopo un po' va a stufo provate a mangiarvi 10 kg di nutella tutti assieme starete male dal giorno dopo la nutella voi non la vorrete più vedere quindi le fonti di piacere effimero quelle che servono solo per bilanciare la bilancia non durano tanto non durano per niente tanto diverso invece quando l'azione viene mossa da una passione vera da qualcosa che vi tocca più nel profondo questo vale sia per una persona sia per un'azione sia per un'arte sia per qualunque cosa sia per un'azienda per qualunque cosa quindi l'idea abbastanza utopica è quella di reinnamorarsi è come se ogni giorno ricominciaste da capo avete visto il film il giorno è la marmotta torniamo sempre lì immaginate ogni giorno di svegliarvi sempre nello stesso giorno dovete rifare tutto da capo quindi vi svegliate e sapete quando vi svegliate l'avrete vissuto no? c'è quel momento in cui appena vi svegliate che non capite niente cioè non vi ricordate neanche chi siete c'è il cervello che si accende e vedete tipo la finestrina di windows che dice aspetta sto accendendo il sistema ma non sto capendo ancora un cazzo non sapete dove siete in che città vi trovate se avete delle persone a fianco chi sono non capite un cazzo poi dipende da da quanto veloce è l'accensione però sta caricando il sistema operativo ecco in quel momento il voi siete come se fosse stati resettati riaccende il sistema operativo e ricominciate da capo ecco lì poi dovreste reinnamorarvi di nuovo perché l'avete resettato la sera prima perché c'è quel momento che non capite niente e lì capite che state ricominciando da capo ma proprio ricomincio da capo il film quindi quindi il segreto dovrebbe essere questo ma è abbastanza utopico se ci riuscite avete vinto se ci riuscite avete vinto perché a quel punto vivete davvero una vita soddisfacente e a quel punto non avete bisogno di nient'altro non avete bisogno di nient'altro ma ecco ad esempio una cosa su cui poi bisogna impegnarsi è mantenere quello stato perché come vi ho detto la nostra mente si adatta molto velocemente siamo l'essere più che è riuscito a sopportare più tempo a vivere più tempo su questa terra perché siamo quello che si adatta meglio tra gli animali quindi la nostra la nostra grossa capacità di adattamento ci porta a questo però abbiamo anche la versione negativa l'altro lato della medaglia di adattamento ci adattiamo a tutto anche al piacere quindi come vi ho detto tempo fa in un altro flow la stessa cosa che ci dà piacere oggi domani ci darà meno piacere io vivo io vivo in un posto splendido la prima volta la prima la prima volta che ho visto un'alba spettacolare sul mare per me è stata un'emozione fantastica adesso la vedo tutto i giorni è sempre bellissima ma l'emozione della prima volta non è la stessa cioè è ovviamente diverso perché ti abitui anche se una cosa è bellissima ti abitui dopo rimane sempre la stessa il vantaggio però delle persone a differenza di un'alba che per quanto può avere colori diversi quel che è però bene o male lo standard è quello il bello invece delle persone che possono reinventarsi ogni giorno cioè noi abbiamo il nostro pensiero astratto la razionalità la mente questo cervello fantastico in alcuni casi è fantastico in altri purtroppo non è proprio fantastico però è una macchina fantastica che può reinventarsi ogni giorno immaginate se l'obiettivo di una coppia o di un trio o di una comunità o di quel che sia sia ogni giorno reinnamorarsi quindi far sì ma tutte le persone quindi entrambe se siete una coppia entrambi dovrebbero avere questo fine cioè come faccio oggi a reinnamorarmi dell'altra persona e a far reinnamorare l'altra persona di me e di conseguenza l'altra persona deve fare lo stesso utopico ancora più utopico questo stiamo proprio parlando di pure se stiamo stiamo parlando di cose abbastanza impossibili da realizzare perché prevedono già che entrambe le persone abbiano abbassato i pesi sulla bilancia piacere e dolore a veramente poco perché già che uno ci riesca è difficile due ci riescano è quasi impossibile che si incontri o queste due ufff c'è altro che legge di attrazione ci vuole è una lotteria lì però può capitare insomma non voglio demoralizzarvi ma può capitare non voglio Grazie a tutti.